Guido, ci sei? Senti, sono qui con Arturo. Ci apri? Dai, Guido, che fai? Chiudi in bagno. Fai preoccupare i nonni, dai. Ho capito, va bene. Oggi ho esagerato e ti chiedo scusa. Va bene, scusa? Però adesso apri sta porta, dai! Allora, Guido! Ma che fassi, calmi! Sì, signora Ivana, lo scusi, è che siamo tutti un po' preoccupati. Io voglio andare al concorso. Io voglio andare al concorso. Io voglio andare al concorso! Sì, sì, ci andrai al concorso e farai del tuo meglio, va bene? Però adesso apri sta porta. Partiamo mercoledì alle 15.30, d'accordo? Ma partiamo chi? Eh, non hai visto la scheda? Io ti ho indicato come tutor. Non ho capito. Come mio accompagnatore. Io al contest con quello non ci pensare nemmeno. E poi domenica ho un impegno. Eh, appunto, il contest finisce sabato. Ho bisogno di tempo, devo studiare un menù. Ci penso io a farti fare l'autorizzazione dell'assistente sociale per la trasferta. Tanto basta un pezzo di carta. È la mia ultima settimana. Mi potresti dare un po' di tregua o no? Allora, senti, è la prima volta che Guido fa una cosa di sua iniziativa. E sembra che la voglia portare fino in fondo. E poi tanto lo manderanno via subito. Dopo la prima prova, la seconda, non lo so, non lo so. Allora, senti un po' di tregua. Mamma ox Estado, io sononsz pronta. Quasi guardate il tuo? E poi guard gate bagnord? Lamma ho! Nelolo! Grazie a tutti.